Saranno 14 i comuni del Vibonese che il prossimo 11 giugno vedranno i propri cittadini recarsi alle urne per rinnovare i rispettivi consigli comunali. Arena, Brognaturo, Capistrano, Fabrizia, Filandari, Filogaso, Francavilla, Angitola, Ionadi, Pizzo, San Costantino Calabro, San Nicola da Crissa, Spadola, Stefanaconi e Vazzano. Di questi, 12 sono giunti a scadenza naturale. I rimanenti due, e cioè Filandari e Ionadi, tornano alle urne anticipatamente, in quanto entrambi i sindaci hanno rimesso il loro mandato nelle mani dei cittadini. A Filandari in particolare, malgrado le dimissioni del sindaco Vincenzo Pizzuto siano state scritte per motivi strettamente personali, sembra che alla base della sua scelta ci siano state divergenze di vedute con quattro consiglieri della sua maggioranza. A Ionadi, invece, l'ormai ex sindaco Caterina Signoretta, non aveva più i numeri per proseguire il proprio mandato. Dei sette consiglieri del suo gruppo, le erano rimasti leali soltanto gli assessori. Tanto da farle ammettere una situazione di stallo e di paralisi amministrativa, provocata dai continui veti incrociati, dei due maggiorenti esterni alla maggioranza consigliare. Ad Arena, nel 2012, aveva vinto Antonio Schinella con una lista civica insieme verso il futuro, ottenendo il 40-49%, avendo battuto Enrico Brogna, che aveva ottenuto con la lista civica rinascita per Arena al 37-27%, e Michele Giamba, che aveva ottenuto il 22% con la lista sinistra per Arena. A Brognaturo, Giuseppe Antonio Iannarella con la lista civica ancora insieme per Brognatura, e va sconfitto Maria Carmela Mangiardi della lista rinnovamente crescita. Era stata una sfida 2 anche a Capistrano, dove è stato riconfermato Marcello Caputo, con quasi il 52%, con la lista a continuità per il futuro migliore, sconfiggendo Renato Savio Arone di Capistrano Unita. Si torna a votare anche a Fabrizia, i cui organi di governo erano stati eletti nel novembre del 2011. Allora vinse Antonio Minniti con circa il 50% dei voti, contro le altre due liste, una di destra e una indipendente. A Filogaso, Antonio Barba ottenne oltre il 52% con liberamente per Filogaso, battendo Antonio Rizzo, che con la lista civica al servizio del cittadino e del territorio, si fermò a poco più del 47%. A Francavilla è stata una donna a vincere, l'unica dell'intero tornato elettorale. Antonella Bertucca, della lista a democrazia e partecipazione, che si impose su Giuseppe Pizzonia, di svolta popolare. Corsa a tre invece a Pizzo, dove Gianluca Callipo si impose su Olmo Marino e Francesco Antonio Gambo. Ricordiamo che Callipo, nel 2016, è stato anche eletto coordinatore nazionale di Anci Giovani. A San Costantino Calabro, Nicola De Rito vinse le elezioni con il 51,73% e la lista civica rinascita, battendo Francesco Antonio Carullo con la lista civica San Costantino Calabro, che si fermò al 48,6%. Giuseppe Condella, invece, si impose a San Nicola da Crissa, con oltre il 65% dei voti. Nel 2012, nulla poterono contro di lui Alberto Emineo e Antonio Ficchi. A Spadola riconferma plebiscitaria per Giuseppe Barbara, così come a Stefanaconi, dove stravinse Salvatore Di Sì. Infine a Vazzano fu Domenico Villi ad uscire vincitore dalle urne, con la lista Vazzano sei tu e il 58% dei consensi, lasciando il suo sfidante Francesco Martelli al 41%. Grazie. 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 Grazie.